in questo numero del tg giovani compiti delle vacanze per 4 studenti su 5 si può studiare sui social risponde il ministro valditara imparare lavorando le storie dei ragazzi di potenza ciao ragazzi questa è radio immaginaria la radio degli adolescenti e ogni settimana troviamo tre notizie per aggiornarvi un po' su tutto quello che succede intorno a noi primissima notizia è agosto e questo vuol dire solo una cosa compiti per le vacanze secondo un sondaggio condotto da scuola.net solo in italia uno studente su 5 è stato risparmiato dai compiti per le vacanze per fare questo sondaggio sono stati ascoltati 1500 studenti di scuole medie e superiori e il 51% di loro ha dichiarato che i compiti sono aumentati rispetto agli altri anni è così anche per voi? seconda notizia ok abbiamo capito che fa caldo ma come si può combattere la siccità? beh in messico si sta sperimentando la pioggia artificiale il governo messicano infatti ha lanciato l'ultima fase di un progetto di insaminazione delle nuvole per indurre la pioggia si parla proprio di ultima fase perché è dal 2020 che il ministero dell'agricoltura messicano sta sperimentando il cloud ancora non abbiamo la certezza che questo progetto funzioni davvero però voi cosa ne pensate? sono curioso ultima notizia la calciatrice Nuhaila Benzina è scesa in campo ai mondiali di calcio femminile con l'e-jab questo ha segnato un momento storico infatti nessuno prima di Nuhaila Benzina aveva giocato con l'e-jab il divieto della FIFA è caduto nel 2014 fino ad allora per ragioni di sicurezza nessuno poteva portare l'e-jab queste erano le tre notizie di questa settimana da Radio Immaginaria è tutto ciao ciao ragazzi qui Radio Immaginaria la radio degli adolescenti sono sempre di più i prof che spopolano i social con le loro lezioni di matematica, fisica, italiano, storia tanto che alcuni di noi studiano con i loro video ma i social potrebbero avere un ruolo nella scuola? l'abbiamo chiesto al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara quello a cui noi non dobbiamo mai rinunciare è il ruolo del docente e soprattutto quel percorso di umanizzazione e di rapporto interpersonale io utilizzo i social per studiare molte volte guardo i video su YouTube per fissare meglio il concetto molte volte i video di testo purtroppo tralasciano qualche informazione coinvolgere i social nella didattica ma studiamolo, vediamo, verifichiamo penso che un'ora di lezione ti insegni molto di più di un video di due minuti o quattro minuti ripetendo in maniera semplice delle cose senza usare parole complicate e sarebbe molto utile farlo anche durante le ore scolastiche il rapporto fisico-umano diretto tra il docente e i ragazzi in classe è assolutamente imprescindibile e voi usate i social per studiare? fatecelo sapere sul nostro profilo Instagram o nei randescore radioimmaginaria per oggi è tutto, alla prossima! questo progetto mi sta diciamo facendo capire se in realtà questo lavoro fa per me oppure no un anno e mezzo fa ho deciso di lasciare la scuola perché questo lavoro a me mi è sempre diciamo piaciuto e spero di imparare altre cose ho imparato a fare il meccanico e a imparare parecchi utensili come vivere nel mondo del lavoro e come si svolge il lavoro quando si fanno manutenzioni vicino alle macchine mi sto trovando molto bene anche perché questa esperienza mi ha insegnato molto a relazionarmi con le persone spero che questa esperienza possa mettermi nel mondo del lavoro con l'azione divento imprenditore di me stesso realizzata dal partner ID Makers abbiamo attivato diversi tirocini extracurriculari per gli adolescenti che hanno compiuto 16 anni e hanno assolto all'obbligo scolastico ma che purtroppo hanno abbandonato la scuola i tirocini extracurriculari hanno rappresentato un'opportunità di sperimentarsi sul campo e di immaginarsi nel loro lavoro futuro da questo tirocino mi porto dietro i ragazzi che mi hanno alzato mi hanno dato l'opportunità di andare avanti e soprattutto i due fondatori dell'azienda ringrazio loro che mi hanno insegnato a stare dall'altra parte a tagliare il ferro, ad avvitare i pezzi a mettere una vite, a mettere i vetri, a caricare i vetri a mettere una maniglia ospitare per noi in azienda un ragazzo che ha abbandonato la scuola è stata sicuramente un'idea di voler dare una risposta formativa innanzitutto non soltanto dal punto di vista professionale ma anche dal punto di vista umano non è stato facile ci siamo trovati ad essere diciamo non degli insegnanti ma dei compagni di strada col tempo, con la perseveranza, con la pazienza con la voglia di crescere, di aiutare a crescere questo ragazzo oggi sicuramente posso dire posso essere soddisfatto che è cresciuto Trovo questi corsi, questi progetti molto utili in quanto i ragazzi solo attraverso uno stage possono realmente capire se hanno attinenza verso una professione o no Sono molto contenta di aver aderito a questo progetto perché mi ha dato la possibilità di formare una giovane ragazza che dopo aver lasciato la scuola mi ha chiesto di poter svolgere l'attività presso il mio locale e lei è una ragazza che si è dimostrata molto determinata ad apprendere ed è molto valida nel svolgere il suo lavoro E auguro a Simone di continuare nella sua vita lavorativa e soprattutto che ci metta lo stesso impegno che ci ha messo nel tirocinio Auguro a Fabiana di scoprire qual è la sua strada